Ciao a tutti e a tutti e benvenuti su questo nuovo video. Oggi vi farò vedere tutti i miei disegni kawaii. Bene, iniziamo subito da questo quaderno. Il primo disegno che vi mostro è un circo. Poi, ci sta questo foglio che sono dei tipo fast food. Il primo è il McDonald's, il secondo è il Kasti Burger che ha giusto, però mi piaceva. Poi, dov'è che l'ho fatto? Ecco, ci sta questo che è di Natale, che devo ancora colorare, però, i Kinder. Poi non so se ci sta anche l'altro disegno. Sì, la casa non è molto lunga, anche però. Poi ci sono Lion, Liktat, tutto bello. Poi, passiamo a quest'altro quaderno. Abbiamo, come primo disegno, un morsetto del cuore. Poi, poi, due evidenziatori che il primo è il maschio, giallo, che sarebbe una giraffa. La seconda è il rosa, che sarebbe sempre giallo, un evidenziatore. Poi, poi, ci sta insieme, fatto con le tempre. Poi, poi, c'è l'acqua. Poi, abbiamo... Ah, sì, questa qua, che è bellissima. Ed è Jasmine. Bene, questo qua, abbiamo finito. Poi, passiamo a quest'altro disegno. Il primo è il gelatino. Il secondo sono le tre celluline. Poi, il terzo è il cupcake. Poi, ci sono le patatine. Ecco. Poi, c'è il marshmallow. Il stringhetto. Poi, l'hamburger, la coca-cola, la pizza e l'hot dog. I popcorn. Biscottino. Plasmon. Questo qua, che sono i miei due disegni preferiti. Caramellina, gelatina, caramella al gel. Lecca-lecca. La ciambella. E la frappuccina. Sperno. Poi, c'è un ultimo disegno, che ho copiato dal mio vaso. Che è il vaso pieno di fiori, con l'orsetto, del 2015. Questo angelo, questa piantina. E questo capricorno. Beh, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale, se volete vedere altri video. Scrivete giù, nei commenti, altri video da fare, challenge, esperimenti. E... Ciao, alla prossima!